Buongiorno, continuiamo nel nostro percorso di storia dell'integrazione europea. Siamo arrivati alle soglie degli anni Ottanta e siamo nel momento sicuramente più felice, di massimo fulgore dell'unità europea. La stessa formula della CE comincia lentamente a svanire, l'Unione Europea di cui si parla sarà qualcosa di più di una confederazione dei vari patti per materia, il nucleare con l'Euratom, gli scambi doganali con il Mec, il carbone e l'acciaio con la ceca e così via. No, bisogna proprio puntare a una Unione Europea che superi anche la vecchia UEO, l'Unione dell'Europa occidentale, per cui per esempio si arriva all'elezione diretta, soffragio universale diretto, del Parlamento europeo. Quello che dovrebbe fare da traino all'unità politica, perché torna l'idea che l'Europa non è solo un'intesa economica, ma deve marciare verso una unità politica. E gli anni Ottanta sono gli anni certamente di maggiore consenso, in qualche modo l'unione monetaria, non ancora l'euro, il serpente monetario per cui c'è una moneta virtuale. L'EQ, che di per sé è una moneta da opporre a tutte le altre, però è composta dalle monete nazionali e quindi realizza un equilibrio interno fra le monete nazionali, dei cambi variabili fra le monete nazionali. Questa elasticità dovrebbe in qualche modo consentire da un lato di avere una moneta unica, solida, stabile, dall'altro però dare una certa elasticità interna al sistema. In qualche modo questo è indirettamente concorrente con il dollaro, moneta di riferimento internazionale per gli scambi, perché almeno una parte del paese, una parte del mondo non irrilevante, perché comunque stiamo parlando del mercato più ampio del mondo in quel periodo. E questa parte del mondo, almeno negli scambi interni, gioca con la sua moneta e non con il dollaro. Quindi in qualche modo, qualche riflesso c'è. Gli europei apprezzano questa tendenza. Oddio, qualcuno, ostoscio un po' il naso. Ma per esempio, quando si farà il referendum sul nuovo patto, in Italia questo referendum sarà approvato con oltre l'80% dei sì, la premessa di quello che qui sarà l'Unione Europea. E questo accadrà negli ultimi anni 80, se non vado errato nell'89. Ma anche in altri paesi ci saranno larghe maggioranze in questo senso. L'Unione Europea sembra avviata su un cammino di sorti magnifiche e progressive. Gli Stati Uniti hanno ancora l'egemonia del mondo, non è ipotizzabile che declini molto presto quest'idea, però nello stesso tempo devono fare i conti con l'Europa. E il blocco sovietico sta rapidamente declinando. Dopo la morte di Brezhnev ci saranno due brevi interregni con l'ex capo dei servizi Andropov e con il generale Czarnienko. Tutti e due, anziani e piuttosto malmessi in salute, dureranno se no un anno e moriranno. Dopo la morte di Czarnienko il primo colpo di ala con l'ascesa di Gorbachev, un leader di generazione diversa, giovane, con una marcata propensione al riformismo che in qualche modo intende affrontare i problemi del ritardo tecnologico, del ritardo culturale dell'URSS, quindi in qualche modo una sorta di post-Khrushchev che riprende il discorso del disgelo, l'attenuazione delle misure contro gli intellettuali, l'apertura alla cultura occidentale, una relativa autonomia dei corpi sociali. Gorbachev fa sperare che l'URSS evolva in direzione di una maggiore libertà, addirittura di una democrazia. C'è chi ne parla come della premessa di una nuova grande socialdemocrazia sul modello, per esempio, di quelle scandinave. E questo naturalmente fa sperare molto l'Europa perché farebbe cessare in gran parte il contenzioso fra Russia e mondo occidentale, quindi Stati Uniti. L'Europa potrebbe svolgere pienamente un ruolo di ponte rispetto a questa nuova socialdemocrazia che ci si augura si apra al pluralismo politico e anche economico, su l'idea che basta con l'economia centrata e che si dia spazio anche all'economia privata è un'idea che seduce molti. Quindi Gorbachev è la promessa anche di un successo dell'Unione Europea. Però le cose non sono andate così. In realtà l'estate felice di Gorbachev dura molto poco. Gorbachev è salito al potere nell'86, riesce a impostare primi progetti di riforma, di sviluppo, di crescita. Ad esempio rinuncia in buona sostanza alla concorrenza con gli Stati Uniti sulla questione dello scudo stellare perché gli americani vogliono mettere in orbita un sistema tale capace di intercettare qualsiasi missile diretto contro di sé. I russi dicono che questo, hanno detto, che tutto questo avrebbe squilibrato i rapporti di forza fra Russia e Stati Uniti perché gli Stati Uniti sarebbero stati difesi da ogni attacco russo ma nello stesso tempo in grado di attaccare loro la Russia. E quindi si sviluppa intorno a questo tema e più in generale al tema degli equilibri missilistici una forte rivalità fra i due blocchi nei primi anni Ottanta che farà parlare di una seconda guerra fredda. È il periodo della mobilitazione per i missili di Coimiso, i Cruise e i Pershing, rispetto ai quali la Russia vorrebbe schierare in Europa gli SS-20. Qualcuno dice che in realtà sono i Cruise e i Pershing la risposta agli SS-20. La Nato è pronta a ritirare i Cruise e i Pershing ma a condizione che i russi spostino i loro SS-20 naturalmente dove? Al confine con la Cina. Cosa che la Cina non vede di buon occhio. Ecco, questo si trascina per tutta la prima metà degli anni Ottanta e naturalmente assorbe buona parte del bilancio sovietico. Il complesso militare industriale sovietico non è meno vorace di quello americano. Il guaio è che mentre gli americani hanno una tecnologia che si sta sviluppando che si continua a svilupparsi molto rapidamente e i sovietici hanno un ristagno tecnologico hanno fuga di scienziati hanno problemi di finanziamento delle spese militari e hanno una crisi economica interna sui beni è molto sensibile perché il problema è quello di sempre burro o cannoni? Con Stalin la scelta era i cannoni odio un po' perché lui faceva questa scelta un po' perché quelli erano i tempi. Con Khrushchev abbiamo avuto il periodo del più burro più consumi con Brezhnev sia pure lentamente siamo tornati al più cannoni e nei primi anni 80 fra l'ultimo anno di Brezhnev e i primi di Andropov e Ciornenko ci sarà di nuovo il più cannoni con Gorbachev si cerca di assicurare più consumi più burro il guaio qual è? il guaio è che l'intero apparato industriale sovietico è in forte ritardo è basato su statistiche totalmente false ad esempio la produzione di cotone sulla carta segnava dei volumi che poi in realtà rispondevano a niente i negozi sono vuoti hanno pochissimi generi di merci da offrire compresi soprattutto i negozi alimentari c'è un malcontento che serpeggia c'è una burocrazia che non è sempre fedele al capo del governo e del partito quindi cominciano a esserci momenti di incertezza di questa situazione gli Stati Uniti approfittano per stendere ulteriormente il loro raggio d'azione soprattutto nell'est nei paesi dell'Europa orientale che fanno da antemurale all'Unione Sovietica quindi Polonia Cecoslovacchia Ungheria Romania Bulgaria e il dissenso comincia a essere sempre più presente in Polonia già nell'81 sono stati costretti a fare un colpo di Stato per frenare l'ascesa di Solidarnosc ma Solidarnosc nella clandestinità continua e l'elezione del Papa Polacco non agevola le cose ai russi in Cecoslovacchia già nel 77 è partito un appello l'appello di carta 77 che ha avuto numerose simpatie anche negli altri paesi nel blocco sovietico l'appoggio del partito comunista italiano che contava qualcosa all'epoca non era il PD se oggi il PD prende posizione in difesa dei dissidenti cinesi le risate si sentono da Pechino a Roma all'epoca non era così e poi anche in Ungheria stanno tornando pruriti di natura riformista e sul piano del consenso la Russia non è in condizioni di offrire molto ai suoi partner tanto meno e in condizione di fare l'ennesimo intervento militare come fu in Cecoslovacchia e in Ungheria il blocco del patto di Parsavia va via via scollandosi e il segnale della rottura arriva nell'89 quando prima con l'emigrazione di molti Cecoslovacchi e tedeschi nel blocco occidentale si disse che avrebbero votato con i piedi quindi in qualche modo sviluppo il sistema poi con l'emergere di nuove leadership nazionali il patto di Parsavia andrà in frantumi e l'Unione Sovietica incamererà questa sconfitta da un certo punto di vista alcuni parleranno di un successo di Gorbachev perché comunque sta togliendo di mezzo una bardatura che non giovava e però no non è proprio così la verità è che l'Unione Sovietica va calando il suo potere di attrazione e il tentativo di Gorbachev è quello di salvare il paese il metropolitano rinunciando all'impero ma questo non riuscirà nel 91 anche a causa dello smacco politico ricevuto a causa della prima guerra del Golfo che gli Stati Uniti vinceranno in poche settimane questo metterà in moto una serie di tendenze centrifughe anche delle repubbliche e per cui nel giro di pochi mesi ci sarà prima il tentativo di colpo di Stato dell'ala dura del partito nell'agosto del 1991 per la pressione il 21 agosto data significativa nella storia del movimento operaio e ricorrente ecco il tentativo di colpo di Stato fallirà e a seguito di quel tentativo fallito questo indebolirà ulteriormente Mosca e quindi Gorbachev al punto che Gorbachev sarà costretto a rinunciare alla vecchia Unione Sovietica proporrà una federazione delle repubbliche sovrane ma di fatto fallirà nel giro di poche poche settimane e si arriverà all'indipendenza delle tre repubbliche baltiche della Bielorussia dell'Ungheria delle repubbliche caucasiche e delle repubbliche del centro Asia resterà la sola repubblica russa che è l'attuale Russia in rapporti più o meno migliori con alcune per esempio la Bielorussia sarà tendenzialmente più vicina alla Russia di quanto non sarà invece l'Estonia che invece cova un antico livore quindi è la fine della Unione Sovietica e però con questo finisce anche Gorbachev perché Gorbachev conta perché è il capo del governo dell'Unione Sovietica sciolta l'Unione Sovietica è rimasta la Russia chi conta il presidente della Repubblica Russia Boris Yeltsin perché è fallito il tentativo di Gorbachev e che ripercussioni ha in Europa è fallito paradossalmente perché troppo timido Gorbachev è arrivato troppo tardi non ha avuto nemmeno il tempo pensate che fra l'86 e l'89 quando nel complesso inizia la parabola discendente della sua leadership passano solo tre anni e la parabola discendente della sua leadership dura due anni quindi in tutto Gorbachev è durato scarsi cinque anni e di questi cinque anni due e mezzo sono stati di parabola discendente perché la Russia avrebbe avuto bisogno di sbarazzarsi del suo sistema politico basta con il partito unico con la dipendenza del sindacato degli organismi sociali dal partito apertura all'economia di mercato il che non significa necessariamente la privatizzazione di tutto e di tutti avrebbe avuto bisogno di realmente realizzare un modello di socialismo diverso in cui c'è più spazio per il pluralismo eccetera o anche di passare al modello occidentale questo non era detto ma poteva essere una delle due scelte praticabili e questo però presupponeva togliere di mezzo la forza sociale che faceva da pietra al piede la palla al piede cioè la burocrazia politica che includeva quella del partito quella dei servizi segreti parte di quella militare o amministrativa soprattutto la burocrazia del partito che aveva ricchi privilegi e questo non sarebbe stato possibile tanto è vero che poi un tentativo sia pure mal riuscito sgangherato di colpo di stato ci sarà nel 91 fallirà ma comunque c'è Gorbachev non ce l'ha fatta a impostare un sistema di tipo pluralistico a rimettere in moto l'economia in parte perché non ha avuto il tempo ed è arrivato troppo tardi in parte perché neanche lui aveva idee chiarissime in proposito per esempio anche queste cose soprattutto in un paese socialista contano beh lui fece una serie di riabilitazioni dei processi di Mosca eccetera della storia sovietica che aveva condannato un sacco di dirigenti del partito e arrivò a riabilitare Bukharin che non è poco perché Bukharin comunque rappresentava un certo riformismo tendenzialmente di destra ma comunque un certo tipo di riformismo non riabilitò mai Trotsky ed è un motivo reale cioè l'opposizione di sinistra un po' perché l'opposizione di sinistra era molto legata all'idea di rivoluzione internazionale eccetera che non era il meglio la cosa più raccomandabile se stai aprendo all'occidente quindi ma soprattutto per un motivo perché Trotsky era il teorico della lotta la burocrazia era il fumo e gli occhi della burocrazia e questo è un segnale vi dice quanto Gorbaccio dovesse poi arrendersi rispetto a certe muraglie di fatto il suo tentativo fa lì dopo ci sarà l'interregno abbastanza sgangherato di Yeltsin fino a quando nei gli ultimissimi anni 90 primi 2000 non arriverà Putin il quale per la verità un po' perché più spregiudicato anche ai limiti e forse anche oltre i limiti della criminalità un po' perché fu aiutato dalla scoperta di enormi giacimenti di gas e di petrolio nella zona del Caspio e in qualche modo Putin ha rappresentato una fase di stabilizzazione ma questo lasciamo stare comunque è evidente che gli sviluppi della Russia mettevano definitivamente la parola fine sul bipolarismo e la fine del bipolarismo significa anche una cosa la fine dell'illusione degli europei di svolgere un ruolo autonomo come mediazione fra i due blocchi non ci sono più i due blocchi non c'è bisogno di un mediatore c'è il progetto dell'unica grande superpotenza mondiale che sono gli Stati Uniti e l'avvio della globalizzazione significa l'avvio della globalizzazione neoliberista e americana non è una globalizzazione qualsiasi c'ha degli oggettivi degli aggettivi molto precisi ecco che il progetto europeista di fatto paradossalmente impallidisce perché altri hanno avuto un ribaltone nei rapporti di forza la posizione dell'Europa brillava perché c'erano due fari uno a sinistra e uno a destra che ne esaltavano una possibile posizione mediana fallito uno dei due riflettori e potenziato l'altro l'Europa finisce nel cono d'ombra non sarebbe più ecco qui c'è uno degli aspetti che inizia a farci capire perché l'Europa è entrata male nel mondo della globalizzazione e ha proseguito peggio perché sulla carta la globalizzazione è stata presentata come il trionfo dell'economia e in particolare della finanza sulla politica la politica non è più tanto necessaria basta che la politica si ispiri all'asseferra che poi il mercato mette tutto a posto sa va san dir e le cose poi nel tempo si sono dimostrate non di questo genere l'idea di accettare il la superpotenza americana il mondo unipolare non era affatto l'idea che liquidava la dimensione della politica ma anzi al contrario la globalizzazione neoliberista funzionava con i suoi meccanismi di mercato eccetera a condizione che ci fosse un garante e il garante era la superpotenza per certi versi questo è il trionfo della politica non fu capito immediatamente sarà evidente dopo quando per esempio dovremo fare i conti tutti quanti con il successo dello sviluppo cinese quando vedremo sorgere sia pure per un momento il polo dei Brick i quattro paesi la Russia che era quella che stava riemergendo grazie al petrolio grazie alle politiche di Putin il Brasile che tutto sommato stava uscendo dalla crisi da debito che aveva avuto cioè che ormai si insediva nei meccanismi della globalizzazione soprattutto per la fornitura di materie prime l'India che per i meccanismi della globalizzazione diventava uno dei grandi poli della delocalizzazione e pensate soltanto a due cose il cinema dove ci sarà a Bombay la nuova Hollywood infatti sarà chiamata Bombay la Bollywood perché e perché lì si parla in inglese però la gente costa molto meno quindi molti film o anche semplicemente parti di grandi film dove non incide molto il tale attore si possono risolvere in India e l'altro settore sarà quello farmaceutico l'India sarà il principale polo farmaceutico a livello mondiale ce ne siamo accorti adesso con la pandemia ma per esempio l'India avrà un forte successo nel pensiero matematico anche perché per tradizione loro hanno una grande scuola matematica oppure per esempio l'India fornirà per effetto del web per esempio la lettura di lastre esami eccetera il carattere medico commissionate da medici inglesi eccetera questi esami verranno letti analizzati e dato il risponso dall'India ai paesi in lingua inglese questa serie di ragioni farà dell'India uno dei giganti emergenti e tutto questo crea un mondo diverso che non è quello del bipolarismo ma non è più neanche quello del monopolarismo per cui vabbè la politica lascia perdere regoliamo tutto sul piano dell'economia e del mercato non è così non è così e infatti inizieranno le grandi crisi politiche guardate che anche qui il tempo tende a essere molto più veloce nella nostra epoca anche qui l'estate felice della globalizzazione dura una decina di anni va dal 91 che è la fine dell'impero sovietico poi nel 93 ci saranno i negoziati di Marrakesh che sanciranno la formalizzazione dell'ordinamento neoliverista poi man mano ci sarà il decollo di tutto questo gli Stati Uniti conseguiranno una superiorità militare senza precedenti la flotta degli Stati Uniti equivarrà alle principali per numero per peso per capacità di fuoco equivarrà alla somma delle principali otto flotte mondiali successive se poi parliamo non della flotta marittima ma della flotta aerea la flotta aerea americana equivarrà al peso delle principali 19 flotte aeree mondiali del tempo senza parlare della supremazia dal punto di vista dello spazio senza contare le 13 portaerei le 7 flotte le 745 basi americane all'estero quindi le spese militari americane sono esattamente la metà delle spese militari del mondo in quel momento neanche una coalizione teorica di tutto il resto del mondo riuscirebbe a tenere testa alla superpotenza americana quindi non c'è dubbio potenza unica questo non sarà più vero in seguito e quindi gli Stati Uniti in questo senso non sono soltanto diciamo il vincitore antagonista della Russia ma sono implicitamente il vincitore dell'antagonista europeo se ci avete qualche illusione toglietela dalla testa qua comandiamo noi e in questo l'Unione Europea fa molto per dar ragione agli americani in primo luogo perché finita la Russia e il blocco orientale non ci sarebbe stata ragione di confermare la Nato la Nato esisteva come alleanza politico-militare per difendere l'Europa occidentale da un rischio di invasione sovietica ammesso che questo rischio realmente ci sia mai stato ma va bene lasciamo perdere di fatto finito il blocco sovietico non si capisce perché debba continuare a esserci la Nato se non per garantire l'assoluto predominio americano che con il codazzo europeo dispone di qualcosa come il 70-75% degli armamenti mondiali quindi in realtà l'Europa si genuflette e accetta la leadership politico-militare americana qui inizia e capite perché è dalla versante politico-militare che inizia la decadenza dell'Europa e l'idea di fare la grande potenza ridale agli Stati Uniti o comunque l'altra grande potenza politico-militare del mondo finisce in questa maniera e anche l'idea di fare il grande monetone unico che ponga le premesse dell'unione politica d'Europa la moneta unica tirerà presso a sé lo Stato europeo che peraltro nessuno sa esattamente come sarebbe stato ne parleremo nel prossimo video e però c'è poco da fare una simile assetto rende la moneta uno strumento assolutamente inadeguato anche perché quando ci si è azzardati lontanamente a mettere il ditino sulla posizione del dollaro come moneta di scambio mondiale unica sono arrivate le bacchettate sulle dita il primo che tentò di fare questo discorso molto spavaldamente fu Saddam Hussein non so se questo nome vi ricorda qualcosa Saddam Hussein a un certo punto decise per le sanzioni subite dagli americani a seguito alla guerra del Kuwait e della sconfitta del primo conflitto del Golfo disse che avrebbe accettato come pagamento del suo petrolio euro e non dollari non è che abbia portato molta fortuna a Saddam questa posizione nel giro di un annetto e mezzo da questa decisione c'è stata l'altra guerra del Golfo che ha definitivamente steso il regime di Saddam quindi in qualche modo questo è stato un avvertimento utile anche per altri il solito dare il calcio al gatto perché suocera intenda bene questo già è il quadro politico in cui si muove l'unità europea e comincia a declinare a declinare nei fatti perché voi pensate solo a un dato in tutte le grandi crisi internazionali guerra del Golfo del 91 poi guerra dell'Afghanistan del 2001 seconda guerra del Golfo nel 93 guerra del Kosovo nel 98 99 alcuni interventi meno pesanti come quello in Somalia in alcuni paesi africani eccetera poi guerra di nuovo all'Isis l'Europa non ha mai avuto una posizione concorde alcuni paesi hanno partecipato alle imprese militari fedelmente attaccati alla gonna degli Stati Uniti per esempio l'Inghilterra regolare scudiero del grande cavaliere statunitense altri se ne sono dissociati la Francia per esempio soprattutto nella seconda guerra del Golfo e però la Francia e anche in Afghanistan la Francia ha una posizione un po' differenziata in modo più giustificato la Germania che non partecipa a nessuna di queste imprese con la motivazione del i vincoli costituzionali seguiti alla fine della guerra dalla quale siamo stati sconfitti i trattati internazionali eccetera non ce lo permettono quindi noi non partecipiamo per questo l'Italia di solito è intervenuta sempre dopo o comunque in modo piuttosto limitato senza fare grandi figure nella prima guerra del Golfo noi mandiamo in tutto 10 tornado aerei tornado rimediando una figuraccia incredibile perché uno dei piloti catturati da uno dei due aerei abbattuti subito si consegnò andò in televisione a dire che lui non ce l'aveva con gli iracheni e che però no insomma diciamo la verità l'Italia ci ha torto il che detto da un militare non è proprio esattamente la cosa più rilevante lo ricordo ancora il comandante Cocciolone la cosa dette luogo a sbeffeggiamenti internazionali con vignette in cui al posto di Che Guevara c'era la foto di Cocciolone e Axta la auditoria sempre comandante Cocciolone tutti direvano altri paesi minori si sono divisi nessuna occasione ha visto coeso sia politicamente che militarmente il blocco europeo già lì si capisce che il progetto europeo è fallito è fallito perché non è esistito sul piano politico e da questo punto di vista l'allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'est europeo che usciti dall'etica chiamatela come volete passavano alla Nato non era un elemento di rafforzamento alla Nato e talvolta l'Unione europea non era un elemento di rafforzamento della Nato o dell'Unione europea della Nato sì perché c'è l'unico che comanda gli Stati Uniti gli altri sono soltanto subordinati se ci sono sette subordinati in più meglio abbiamo più carne da cannone più fucili e più aerei ma per l'Unione europea dove non c'è nessuno nessuna istituzione che abbia questo ruolo è un indebolimento perché aumenta enormemente il risorgo della torre di Babele delle lingue l'Unione europea infatti emerge sconfitta perché non ha nessun centro di coordinamento politico non ce l'ha a livello comunitario perché il Parlamento non conta niente la Commissione europea deve ogni volta trattare con i singoli stati sovrani e ci riesce un po' più economicamente anche grazie all'appoggio con la banca con la BCE che governa l'euro però in termini di politica internazionale non è cosa il Consiglio Europa praticamente non esiste non c'è nessuna autorità quando si grande trovata il ministro degli esteri europeo mister Pesc sfido chiunque di voi a ricordarsi che cosa significa la sigla Pesc in effetti noi ci abbiamo mandato recentemente la Pinotti che come dire sede vacante voi avete mai sentito mister Pesc che ha avuto un minimo mister Oledi di Pesc che abbia un minimo di peso di voce in capitoli in una delle crisi internazionali ma non se ne parla nemmeno allora la cosa avrebbe potuto porsi in termini di stato egemone vabbè le istituzioni europee non contano niente però c'è uno stato che prevale nettamente sugli altri e dà la linea in fondo qualcosa del genere successe negli Stati Uniti all'inizio sia pure con molte mediazioni ma insomma il blocco settentrionale quello che sostanzialmente va da New York a Washington man mano prese la leadership di tutto eccetera e no in Europa non è successo questo perché anche la Germania non è riuscita ad essere in assoluto il polo che orienta tutti perché perché c'erano limiti imposti dai trattati e pur sempre c'era la coda di paglia del partito del paese sconfitto che non voleva dare la sensazione di proporsi come superpotenza e perché la stessa Germania è un paese federale per cui stai a fare una federazione di federazione governata da una federazione pasticcio terribile poi la Germania era contrappesata dalla Francia e dall'Inghilterra che non hanno mai rinunciato all'idea di svolgere un ruolo di grande potenza indipendente e ve l'ho spiegato negli altri video e quindi in qualche modo sì venne fuori per breve periodo il trio Germania Francia Inghilterra che escludeva ovviamente l'Italia che già non contava più niente ma questo triunvirato durerà poco perché poi ciascuno se andava per i fatti suoi infatti lo vedremo quindi la Germania non riesce né a essere il punto di ferimento della trilateral con inglesi e francesi né a sovrastarli perché comunque il blocco degli altri quindi neanche la Germania riesce ad avere questo ruolo di guida ed ecco che la sconfitta del progetto europeo avviene proprio sul terreno della politica e i continui reiterati appelli al ci vuole più Europa adesso facciamo l'Europa politica sono rimasti patetici appelli di nessun seguito perché non potevano esserci seguiti il perché il per come magari lo vedremo nel prossimo video